È stato il tema del perdono, protagonista oggi dell'omilia della Missa a Santa Marta. Papa Francesco ha chiarito che il peccato non è un semplice sbaglio, ma vuol dire adorare i tanti idoli che albergano nel nostro cuore. L'orgoglio, la vanità, il denaro, il benessere. Partendo dal Vangelo del giorno, in cui Gesù spiega a Pietro che bisogna perdonare 70 volte 7, il Pontefice ha riaffermato che il perdono di Dio per noi e il nostro perdono agli altri sono strettamente connessi. Questo è il discorso che Gesù ci insegna sul perdono. Primo, chiedere perdono non è un semplice chiedere scusa. Essere consapevole del peccato, dell'idolatria che io ho fatto, delle tante idolatrie. Secondo, Dio sempre perdona, sempre, ma a condizione che io perdoni. Se io non perdono, chiudo la porta al perdono di Dio. rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debiti.